via e chi va? vabbè stagnolo siete fake siete fake news make America great again però ti manca il ciuffo ma anche make it easy però questo basta me ne vado ma anche make it easy se lo diceva bene era più offensivo nel mio caso era più offensivo ma io ho una parrucca come Trump questo comunica a tutti quelli che ci ascolto in questo momento la metto solo in momenti particolari di cui non voglio parlare e quindi oggi noi parliamo questo è uno sfondo di un film che io ho visto clamoroso al Cibali perché attenzione Asileoni ha lo sfondo di un film che io ho visto è incredibile non perché tu l'hai visto no no bravo se l'ha visto lui è facile dice qualcosa ma non lo riconosco oggi è molto facile e allora di che parliamo? parliamo di Trump parliamo di Donald Trump che che sta per nominare ha già nominato ha già nominato alla Corte Suprema in sostituzione ora non mi ricordo che cosa è Ginzburg quella che è morta Ruben padre Ginzburg esatto ha nominato un'altra con tre nomi è la caratteristica che ecco devi avere tre nomi per essere nominato alla Corte Suprema se no non puoi in genere in Italia devi avere due cognomi no per la Corte Suprema per fare altre carriere devi avere due cognomi oppure essere un principe ucraino esatto allora ci teniamo a parlarne perché mi sembra una cosa particolarmente interessante oltre che attuale e anche perché pensiamo che veramente diciamo in qualche modo ci dia uno spaccato interessante del rapporto tra politica e giustizia da questi due poteri il potere esecutivo e il potere giudiziario e soprattutto è che la Sireoni ci spiegherà quanto potere ha la Corte Suprema negli Stati Uniti cosa di cui né io né Stagnaro capiamo assolutamente nulla Serena la domanda infatti ma che ci importa a noi di questa roba qua no beh no a noi ci interessa cioè purché non parliamo dell'Italia ci interessa a tutti esatto noi siamo così potremmo parlare come direbbe il nostro amico Boccalatte dell'Uruguay o del Paraguay ma no parliamo degli Stati Uniti e perché ci interessa in fondo perché insomma le vicende le nomine giudiziarie americane ci interessano perché in realtà la Corte il funzionamento del sistema giurisdizionale americano è tale per cui quelle pochissime persone che siedono la Corte Suprema effettivamente determinano più che la politica con la P minuscola degli Stati Uniti la politica con la P maiuscola cioè l'indirizzo politico-culturale di un intero paese la nominanda di Trump la Barrett per esempio si sa che ha posizioni molto conservatrici si sarebbe detto una decina di anni fa neocon negli Stati Uniti e proprio quelle posizioni opposte rispetto ad altre posizioni che si sono avute nei decenni precedenti che hanno dato fatto fare l'ingresso negli Stati Uniti d'America ha un diritto che è un diritto che tocca la vita di tante persone di tante famiglie è quello all'aborto di questo stiamo parlando di un piccolissimo ristrettissimo numero di persone i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti che decidono di queste cose decidono se la pena capitale la pena di morte è legittima o illegittima se l'aborto è legittimo o illegittimo se la detenzione di armi è legittima o illegittima Tra parentesi Selena aggiungiamo che proprio subito dopo le elezioni andrà anche la giudizio costituzionalità sulla riforma sanitaria sul cosiddetto banter quindi l'assistenza sanitaria universale che tanto ha fatto discutere diciamo per tanti anni proprio gli Stati Uniti Esatto stavo proprio per dire non soltanto i diritti civili i diritti classici ma anche i diritti sociali anche i diritti economici che cos'è per esempio la Commerce Clause quella clausola della Costituzione statunitense che ha consentito negli anni l'espansione dei poteri federali in materia economica diremmo dalle parti nostre il diciamo l'interventismo e il dirigismo statalista federale in quel caso nei rapporti economici sono tutte cose che è la Corte Suprema degli Stati Uniti che spiega e siccome gli Stati Uniti non sono propriamente non sono ancora l'ultimo dei dei paesi anche per quanto riguarda l'influenza culturale che hanno sugli altri sistemi giuridici e sugli altri paesi la nomina anche solo di uno dei nuove membri della Corte Suprema sposta gli equilibri in gioco non è un caso io ho citato all'inizio il diritto la questione dell'aborto non è un caso che pochi mesi fa l'anno scorso un uno Stato a guida conservatrice in questo momento l'Ohio con una legge votata quasi all'unanimità ha introdotto un divieto fondamentalmente la penalizzazione la criminalizzazione della pratica di aborto anche per infermieri medici praticamente un divieto perché puoi andare in galera fino a 99 anni cioè sostanzialmente l'ergastolo è ovvio che sia agli occhi stessi dello Stato dell'Ohio è una legge incostituzionale perché riguarda una materia che non è di competenza dello Stato ma perché l'hanno fatto c'è stata dietro una grande azione di movimenti pro-life dietro ma perché proprio perché il loro obiettivo non era quello di far approvare la legge ma era quello di andare alla Corte Suprema per ribaltare per rimettere in discussione proprio nel momento favorevole in cui la Corte vacillava maggioranza conservatrice con la morte della della Ginsburg e ora la nomina in attesa di conferma della Barrett ricordando che il Senato è a maggioranza del partito conservatore quindi sulla conferma diciamo a linea di massi al momento non ci dovrebbe essere grandi dubbi e quindi l'asse si potrebbe spostare fermo restando che la conferma del Senato questa è una delle cose interessanti degli ultimi anni degli ultimi tempi in realtà la conferma del Senato dovrebbe darsi e questo era un po' anche nell'idea della conferma dei nostri commissari alla Commissione Europea dovrebbe darsi non su quello che pensano sulla base delle loro idee politiche o culturali in generale ma sulla base del loro curriculum della loro professionalità è la torsione sempre più mediatica della Corte Suprema in larga parte sono al grado che fa sì che si carichino di attese anche politiche la conferma le conferme del Senato esattamente come sta avvenendo da noi per la Commissione Europea ricorderete il caso di Buttiglione e quindi il Presidente dell'Inps per dire cariche equipollenti come dite voi che avete studiato per cariche retribuite esatto e poi posso chiamarlo sul Presidente dell'Inps obiettivamente poverino non gli davano una minchia oggettivamente ha fatto bene alzarsi lo stipendio poi siccome lui ci dà fastidio ma no perché lui è arrivato lì dicendo che non dovevano dargli una minchia non è che vabbè torniamo ACB solidarietà non lo so io forse no scusa in serie non ho domanda però in tutto almeno in quello che si legge sui giornali c'è una grande discussione su quello che i nominati in questo caso la Barrett pensano su una serie di temi particolarmente rilevanti controversi appunto l'aborto la pena di morte eccetera però quello che dovrebbe contare quello che conta nell'esercizio poi dell'attività di un giudice costituzionale non è quello che pensa in cuor suo ma quello che pensa alla luce del dettato costituzionale e ACB da questo punto di vista è un'allieva del giudice Scalia quindi è un originalista che sostiene la lettura letterale del testo della costituzione alla luce di questi di questi fatti secondo te è effettivamente pensabile che una sua eventuale nomina possa avere un effetto così devastante devastante su decisioni come la Roe versus Wade che oggettivamente sono ormai ampiamente sedimentate non solo nell'opinione pubblica ma anche nella giurisprudenza americana ecco su sull'esempio che fai te come dici te credo credo difficile un ribaltamento dell'orientamento però su cose altrettanto importanti come l'Obamacare sì e forse 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 dal punto di vista politico non è che sia di minore importanza è cancellare l'ultima la grande eredità della della presidenza Obama rispetto appunto una vicenda culturale storica come la Roe versus Wade il diritto all'aborto che in qualche modo è accettato e condiviso dalla popolazione anche se io ho sempre il mio è un pregiudizio contro un pregiudizio io ho il pregiudizio che l'America sia un popolo che noi conosciamo gli americani siano un popolo che noi conosciamo molto poco e che in fondo in fondo diciamo usciti dai lettori tolta la cerchia dei lettori del del New Yorker e gli altri insomma sulla Roe versus Wade sul diritto all'aborto non so quanto riflettano effettivamente posizioni più progressiste più 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 libertarie ecco però io credo appunto che in realtà la nomina se tu vai a vedere la composizione della Corte in questo momento è composta da tre nominati da George Bush due nominati da Obama uno nominato da Clinton e due da Trump quindi diciamo dal punto di vista della provenienza l'asse l'equilibrio si sposta effettivamente rispetto rispetto agli ultimi tempi poi questo in realtà è un po' il nostro modo di vedere le cose ed è anche il modo un po' americano di vedere le cose ma che non è il modo originale di vedere le cose cioè la Corte Suprema degli Stati Uniti non è che nasce come organo diversamente per esempio dal modello francese non nasce come organo ausiliario del governo cioè non è che questi giudici stanno lì perché quel presidente li ha nominati lì e quindi devono tenere fede alle loro diciamo ai motivi per cui il presidente li ha nominati ovvio ognuno quando giudica diciamo come esercizio quotidiano di vita giudica sulla base del proprio delle proprie preferenze delle proprie delle proprie convinzioni delle proprie letture delle proprie riflessioni della cultura che si è fatto e che se la porta anche io sono convinta che se la porta anche un giudice in camera di consiglio però è anche vero che comunque loro svolgono una funzione giurisdizionale di interpretazione della costituzione poi appunto la costituzione tu dicevi può dare agito a interpretazioni diverse e Scalia ce l'ha ricordato in maniera diciamo come dire con 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 io ce l'ho ricordato molto bene però il loro il loro lavoro il loro mestiere la loro professione non è quella di dire secondo loro quello che è giusto ingiusto di dire secondo loro quello che è legittimo illegittimo anche in maniera come dire in maniera apparentemente traditrice passatemi la parola di quelle che potevano essere le aspettative iniziali per questo motivo in realtà sono nominati a vita proprio perché per sganciarli per sganciarli dal potere politico la loro nomina si stacca ad esempio Gorsuch mi pare che avesse che sia andato sia Gorsuch che l'altro poi hanno votato diciamo contro contro nel senso in senso contrario a quelle che erano preferenze teoriche diciamo del governo Trump non mi ricordo quali erano le questioni però erano stati nominati da Trump e in realtà poi appunto proprio avendo la Costituzione come un po' l'effetto quello della che parlava Carlo dell'endogeneità della legge elettorale cioè si pensa che si fa una determinata legge elettorale pensando che poi l'esito è quello che si può dare con quelle condizioni queste persone entrano dentro diciamo un organismo con dei compiti specifici con un loro processo in una relazione con altri soggetti che possono anche avere idee diverse ma che svolgono quel ruolo con serietà e quindi poi l'esito delle loro appunto delle loro votazioni non può di certo essere aprioristicamente determinato ed è per questo che ci stanno a vita è interessante ricordare che nella storia recente lo scontro più feroce tra un presidente e la corte costituzionale non è quello di Trump e non sarà non coinvolgerà Trump ma fu quello tra Roosevelt e la corte costituzionale sul New Deal quando la corte costituzionale inizialmente bocciò gran parte dei provvedimenti del New Deal e per tutta reazione Roosevelt tentò di promuovere una riforma poi fallita finalizzata ad aggiungere dei giudici per alterare completamente gli equilibri della corte provate a pensare cosa succederebbe oggi se Trump facesse qualcosa di anche lontanamente paragonabile a tutto ciò ma detto tutto questo io resto convinto che Trump abbia indicato una candidata certamente qualificata ma altrettanto certamente urticante per tutta la parte diciamo liberal della politica americana e forse anche per qualche repubblicano moderato al Senato perché il suo vero obiettivo è farsela bocciare cioè io sono convinto che a Trump non gliene frega assolutamente niente dell'aborto delle armi delle tante che volete a Trump interessa riconquistare la Casa Bianca e a lui serve un elemento di scontro che energizzi la sua base elettorale di spiega ad andare a votare e a come dire rally around the leader sostenerlo riportarlo alla Casa Bianca in maniera tale che lui possa impedire a quei comunisti e democratici come direbbe lui di tutto sommato su quest'ultima affermazione ma no questi qua Biden è la camala dai diciamo che male che gli va Trump lei viene confermata male che gli va io non credo che lo voglia se fosse confermata sarebbe la base democratica a mobilitarsi per reazione credo ma ha espressamente detto poi che gli interessa perché se si dovesse andare alla Corte Suprema per la disputa sul voto credo che lei si sia già espressa una volta diciamo in un certo senso a favore suo quindi lui ha proprio detto che la vuole nominare per questo motivo come sempre esplicitando tra parentesi vorrei aggiungere giusto per ricordare diciamo a chi ci ascolta che a volte proprio l'impatto delle decisioni c'è un lavoro interessantissimo che un professore si chiama Stephen Levitt che è un professore di economia di Chicago che ha scritto un libro stupendo che per chi non l'avesse mai letto consigliamo che si chiama Freeconomics quindi è un libro nel quale si spiega come i numeri effettivamente aiutano a leggere la realtà in maniera a volte sorprendente si è riusciti a rompere le palle alla Sileoni persino in una puntata sulla Corte Costituzionale no perché è un famoso no perché che veniva mentalmente tanto rotti no 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 è impossibile ma c'è questo fantastico articolo in cui lui dimostra che Roy contro Wade ha un effetto a distanza di decine di anni sull'abbassamento del crimine nella città di New York quindi per dare un'idea dell'impatto cioè lui dice chiaramente Giuliani ha parlato della tolleranza a zero ha detto un sacco di minchiate in realtà è venuta a mancare la manovalanza dell'attività criminale perché grazie a Roy contro Wade le categorie più a rischio cioè tipicamente la madre single di origine afroamericana che vive in condizione di povertà ha potuto fare quello che fino a quel momento solo le persone ricche potrebbero permettersi cioè andare illegalmente ad abortire questa conquista di civiltà secondo Leavitt ha portato a distanza di decine di anni addirittura un'abbassamento criminalità per dare un'idea di come poi veramente l'impatto delle decisioni della Corte Costituzionale e dei pechi pazienti io mi sento qui e ora di prendere pubblicamente un impegno cioè se mai a Menta o io andremo al Quirinale la prima cosa che faremo sarà nominare la Sileoni e la Corte Costituzionale vabbè però solo con lei cioè aboliamo gli altri posti e lei è solo la Presidente della Corte Costituzionale senza confermazione però e senza secondi nomi cognomi eccetera ci basta una che si chiama con un nome o un cognome esatto Serena per chiudere per la cerimonia sì io ce l'ho la giacca cratta per venire l'abbiamo vista posso vedere no 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 vengo più allegro vengo più allegro no no se no però lì viene un'altra cerimonia esatto l'abbiamo nominato allora no invece volevo volevo prima di chiudere con la prima di stagnato invece ecco ne abbiamo parlato ogni tanto però mi piacerebbe diciamo che ti ascoltassero anche anche chi ci ascolta cioè un po' questa spettacolarizzazione in qualche modo della Corte Suprema cioè questa questo fatto è l'opinione pubblica il legame fra l'opinione pubblica della Corte Suprema è un qualcosa che in fondo anche in Italia sta cominciando ad accadere con la Corte Costituzionale o noi siamo ancora ben lontani da questo tirar per la giacchetta i giudici da parte della società secondo me ci stiamo avvicinando a questa cosa qua perché il primo il primo input in realtà lo ha sempre dato il Parlamento da questo punto di vista cioè quando il Parlamento si è diciamo ha scaricato sulla Corte pensate al caso Cappato tanto per citare l'ultimo ma è soltanto l'ultimo quando ha scaricato sulla Corte o prima la legge sulla fecondazione assistente la legge il Parlamento scaricando nella sua pigrizia politica ha sempre più negli ultimi 10-15 anni scaricato le decisioni più controverse agli organi giudiziari che poi arrivano in Corte Costituzionale siccome il Parlamento può anche far finta che le questioni non esistano ma il giudice non può far finta che i casi davanti a lui non esistano naturalmente non può non pronunciarsi può fare una cosa che la Corte cerca di fare spesso cioè tatticamente la prima cosa che fa la Corte è vedere se può dichiarare inammissibile la questione esatto però è stata sempre in realtà è stata più diciamo questo fenomeno di avvicinamento dell'opinione pubblica alla Corte Costituzionale è dipeso più da diciamo dal ruolo asfittico del Parlamento da un lato e anche da un esercizio strumentale del ricorso alla Corte dall'altro sempre per esempio da parte dello stesso Parlamento degli organi interni due anni fa la legge di bilancio per mano di un gruppo parlamentare è stata è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale quella legge di bilancio che fu mi pare proprio due anni fa che fu approvata cioè non la scorsa ma la precedente che fu approvata il 29 di dicembre con questione di fiducia con un testo completamente diverso rispetto a quello di due giorni prima quindi diciamo sono gli altri che hanno invocato la Corte in assenza di una politica degna di questo nome quale che sia la causa però io lo vedo questo avvicinamento tra la Corte Costituzionale e l'opinione pubblica anche diciamo fisiologicamente dovuto al fatto che le informazioni circolano molto più velocemente di prima la Corte Costituzionale stessa ha un sito molto più accessibile ora non credo che tutti i cittadini la mattina forse c'ha pure il posto la Corte Costituzionale però negli ultimi tempi la Corte si è ancora più più aperta che è una cosa che hanno iniziato che noi seguiamo sempre io e Stagnaro esatto è una cosa che in realtà hanno iniziato a fare le istituzioni da qualche anno prima il Quirinale sotto la presidenza di Ciampi e adesso anche la Corte Costituzionale aprendo il Palazzo addirittura appunto un podcast aprendosi un po' alla società civile e questo avvicina in qualche modo o meglio mette sotto i riflettori i giudici stessi la differenza però resta una differenza sostanziale ordinamentale cioè la Corte Costituzionale non è la Corte Suprema anche il canale YouTube io non lo so immaginare quanti cronaca dal fronte costituzionale vai a vedere quanti fa di visualizzazione se ne fa più di noi magari ne ha più di noi se ne fa più di noi mi smesso per forza scusate per forza niente no grande grandissimo però visualizzazioni nel viaggio in Italia a 3398 vabbè se fai una cosa due anni fa in due anni fa vediamo l'ultimo video grandissimo l'ultimo video non c'è ma grandissimo sì sì ma grandissimo sei 192 iscritti 30 30 visualizzazioni ma da ma stasera me ne vado a dormire felice me ne vado a dormire grandissimo valgo di più della Corte Costituzionale viva il mercato viva la Ferragni entro un cazzo no però quello della settimana scorsa ne ha fatto 37 eh sì guarda l'intervista guarda che l'intervista a TG2 perché dura due minuti e 134 perché dura poco c'è un cazzo non lo guarda evitiamo denunce no no denunce per cosa non è che che stiamo dicendo vabbè guardiamo i commenti guardiamo i commenti no 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 lasciamo stare facciamo noi un commento no no non facciamo vabbè hanno due like commenti zero chiudiamo basta che non è bello poi la Siria ci ammazza non vuol più fare le cronache con noi esatto quindi dicevamo però sono diversi cioè resta resta la differenza di fondo sono due organismi diversi che funzionano in maniera diversa il fatto la nomina vita a parte il fatto che hanno proprio un ruolo diverso ma queste sono robe noiose la nomina vita da noi non c'è e non c'è nemmeno l'esposizione questa è la grande differenza di cui la nomina vita è un indice il fatto che da noi i giudici non espongono le loro opinioni rese nel voto all'esterno quindi noi rispetto a 30-40 anni fa forse anche solo 20 anni fa siamo più consapevoli di cosa la Corte dice magari abbiamo letto qualche intervista o abbiamo sentito al telegiornale qualche intervista o su YouTube o su YouTube o ascoltiamo i podcast dei giudici della Corte però non sappiamo qual è l'orientamento in quel caso del singolo giudice perché non si può esporre diversamente appunto dagli Stati Uniti dove come dire ci mettono la faccia non soltanto nelle dichiarazioni esterne rispetto ai giudizi ma proprio nelle opinioni che esprimono perché perché questo è un paese quello è un paese individualista e questo è un paese collettivista no perché sono due organi diversi no perché qua perché qua tu sei la Corte Costituzione non sei Serena Sileoni presidente della Corte sei la Corte Costituzione no beh però sono due organi infatti loro da noi non hanno appunto lo schermo della nomina vita per cui può essere bene poi magari però li nominano 87 anni quindi ma sovrattico voglio dire Serena però voglio dire non è che se poi non sei più alla Corte Costituzionale ti levano lo stipendio se succede qualcosa cioè un giudice è un giudice pure che ammazza è sempre lì secondo me il punto è un altro se noi se il nostro sistema si espone a un rapporto tra giudice e opinione pubblica sempre più serrato forse forse quelle quelle garanzie che erano state previste quelle regole che erano state previste proprio per mantenere la compattezza l'unanimità della Corte Costituzionale forse possono essere riviste come succede appunto negli Stati Uniti comunque noi ci candidiamo a gestire il canale YouTube della Corte Costituzionale bravo no Stagnano ma allora dopo che ha detto questo e ha ipotizzato scusa e ha ipotizzato anche un processo di riforma della Corte Costituzionale perché limitarci a invocarla come Presidente della Corte Costituzionale ricordiamo un bellissimo articolo del foglio in cui viene indicata come Premier quindi noi ribadiamo vero vediamo Premier con l'interim alla Corte Costituzionale bravissimo è una commissione di poteri stupenda grazie Serena per questa bellissima puntata che circoleremo naturalmente in tutte le chat dei costituzionalisti allora io vi io vi voglio dire solo una cosa fra un po' ci sono le elezioni non ci sarà mai più nessuna cronaca credo però fra un po' ci sarà solo numeri e economia solo chiacchiere distintivi però ricordiamo che ci stiamo preparando per le elezioni americane che saranno un momento epocale quindi preparati i popcorner che ci hanno puntate su puntate sulle elezioni questo è solo l'antipasto stagnaro chiudiamo rima ma che ci importa di chi saranno i prossimi giudici della Corte Suprema noi abbiamo l'articolo 16 e contro i suoi nemici pronunciamo anatema ma la Corte Costituzionale potrebbe mai dire che l'articolo 16 è incostituzionale lo sai che hai fatto una domanda lo so che ho fatto una domanda che ha diciamo è rimasta senza risposta per molto tempo e poi finché la Corte stessa ormai tanti anni fa disse che ci sono dei principi fondamentali che non possono nemmeno essere modificati e dichiarati così revisionati nemmeno con legge costituzionale tra cui le libertà le libertà fondamentali e va bene allora grazie però io vorrei dirvi vorrei dirvi che la Costituzione però basta Carlo non tiriamo non tiriamo sta corda che è già no questa è una cosa da dire è sottile è una cosa importante la Costituzione americana non ha non ha sottolineo non ha un articolo 16 aiaiaiaia l'americana non ha articoli sui diritti ancorché ha un sedicesimo emendamento e che dice che dice che il congresso avrà il potere sulle tasse ma come è possibile dice le tasse from whatever source quindi da 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 dovunque anche in natura anche in natura quindi mamma mia mamma mia io se fossi americano non so se mi piacerebbe ma non lo so se dice il primo emendamento comunque la notizia è che la Costituzione non ha articoli sui diritti questo è importante perché non c'è bisogno di ribadirli perché in realtà le cose perché in realtà se i poteri funzionano bene sono è il buon funzionamento dei poteri che genera il rispetto dei diritti vabbè con questo io vi direi perché mi sembra una cosa del resto Trump sta lì a significare questo cioè che hanno fatto una cazzata a non metterli in costruzione metti un Trump in Russia ecco metti un Trump in Russia e forse c'è forse c'è come disse il giudice supremo William Taft da grandi poteri derivano grandi responsabilità sì erano lui e Spider-Man che l'hanno detto allora chiudiamo con questa citazione colta grazie ciao ciao grazie ciao